Civita è una frazione del comune di Bagnoreggio, in provincia di Viterbo, nel Lazio, famosa per essere stata definita la città che muore, dallo scrittore Buonaventura Tecchi, che vi trascorse la sua giovinezza e che così ne scrisse. Ed è rimasta un attimo così, lieta e pensosa, contro quello sfondo balenante di scrimi bianchi e di abissi paurosi, come se la bellezza di un viso di donna che scende nel cuore di un uomo sia veramente una delle cose più dure a morire in questa breve, fuggevole vita. Visitare Bagnoreggio è sicuramente una delle esperienze più entusiasmanti che sia possibile fare nel territorio della Tuscia. Il luogo fu etrusco, ed è così pieno di mistero, di vestigia non ancora interpretate, di una vasta rete di cunicoli sotterranei, di un romantico senso di disfacimento, di svalinamento, che anche in tempi recenti le ipotesi sulle origini e sui suoi riti hanno portato alcuni ad individuarvi una delle possibili sedi del Fanum Voltumne, il santuario della Nazione Etrusca. All'interno del borgo rimangono varie case medievali, la chiesa di San Donato, che si affaccia sulla piazza principale e al cui interno è custodito il Santissimo Crucifisso Ligno, Palazzo Alemanni, sede del Museo Geologico e delle Frane, il Palazzo Vescovile, un mulino del 1500, i resti della casa natale di San Bonaventura e la porta di Santa Maria, con due leoni che tengono tra le zampe una testa umana, a ricordo di una rivolta popolare degli abitanti di Civita contro la famiglia orvietana dei Monaldeschi. Banneum Regis, bagno del re, è un toponimo di origine gotolombarda, che definisce una proprietà reggia e compare per la prima volta nel 599 o 600 in una lettera di Papa Gregorio Magno al vescovo di Chiusi Ecclesio. Non è esclusa la connessione con un complesso termale lì esistente, le cui acque, secondo la leggenda, in realtà il toponimo è di 200 anni precedente, avrebbe guarito le ferite del re Longobardo Desiderio. Civita venne fondata 2500 anni fa dagli etruschi. All'antico abitato di Civita si accedeva mediante 5 porte, mentre oggi l'unica porta rimasta è Santa Maria o della Cava, che ne rappresenta quella principale. Inoltre è possibile accedere a Civita dalla valle dei Calanchi, attraverso una galleria scavata nella roccia. La struttura urbanistica dell'intero abitato è quindi di origine etrusca, costituita da Cardi e Decumani, secondo l'uso etrusco e poi romano, mentre l'intero rivestimento architettonico risulta medievale e rinascimentale. Numerose sono le testimonianze della fase etrusca di Civita, specialmente nella zona detta di San Francesco Vecchio. Infatti, nella rupe sottostante il belvedere di San Francesco Vecchio, è stata ritrovata una piccola necropole etrusca. Anche la grotta di San Bonaventura, nella quale si dice che San Francesco risanò il piccolo Giovanni Fidanza, che divenne poi San Bonaventura, è in realtà una tomba a camera etrusca. Gli etruschi fecero di Civita, di cui non conosciamo l'antico nome, una fiorente città favorita dalla posizione strategica per il commercio grazie alla vicinanza con le più importanti vie di comunicazione del tempo. Del periodo etrusco rimangono molte testimonianze, di particolare suggestione è il cosiddetto Bucaione, un profondo tunnel che incide la parte più bassa dell'abitato e che permette l'accesso al paese direttamente dalla valle dei Calanchi. In passato erano inoltre visibili molte tombe a camera, scavate alla base della rupe di Civita e delle altre pareti di tufo o limitrofe, che nel corso dei secoli furono in gran parte fagocitate dalle innumerevoli frane. Del resto già gli stessi etruschi dovettero far fronte ai problemi di sismicità e di instabilità dell'area, che nel 280 a.C. si concentrarono in scosse telluriche e smottamenti. All'arrivo dei Romani nel 265 a.C. furono riprese le imponenti opere di canalizzazione delle acque piovane e di contenimento dei torrenti avviate dagli etruschi. Alcune date. Nel 1221 vi nacque San Bonaventura. Nel 1348 un'epidemia di peste, quella narrata nel Decamerone da Boccaccio, ridusse la cittadina l'ombra di se stessa. In una sola giornata si contarono più di 500 morti. Nel 1695 un terremoto, aggiungendosi all'opera distruttiva dell'erosione, regò ingenti danni all'abitato di Civita. Nel 1794 un secondo terremoto fece crollare lo stretto ponte naturale che collegava Civita alla borgata esterna di Rota.